Il 31 marzo alle 20.30 torna l'ora della terra, l'evento globale del WWF. In tutto il mondo si spengono monumenti, città, case, un gesto simbolico contro i cambiamenti climatici. Cambia modo di pensare, cambia energia, cambia stile di vita, prendi un impegno sulla strada della sostenibilità. Cambia tu e ispira al cambiamento che ti avvicino. Condividi sul web, passa parola.